Quattro serate con tanti ospiti, un vero show dopo il cartoon. Adriana riparte su canale 5 e 7 novembre e Adriano Celentano sarà presente in carne ed ossa. Il molleggiato, come anticipa il Corriere della Sera, ha invitato Carlo Conti, Paolo Bonolis e Massimo Giletti e avrebbe in mente anche un dialogo con Maria De Filippi. Pare infatti che Celentano abbia intenzione di parlare di TV con i protagonisti dello showbiz italiano, senza dimenticare la musica con Ligabù ed Elisa già nelle prime puntate. Nelle quattro puntate verranno mandati in onda gli episodi mancanti di Adriano dopo la sospensione. Non c'è traccia dei protagonisti dello show precedente, Michelle Unziker, Teoteopoli e Ambra Angiolini. Resta solo l'attrice, Ilenia Pastorelli. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.